Salve, sono Beppe da Tokyo, proprietario delle pizzerie Napoli Sacano. Quest'anno festeggiamo i 10 anni nella nostra attività. Qui ci troviamo alla pizzeria di Komazawa. Oggi lo chef Andrea ci preparerà uno spaghetto con bongole veraci, zucchine, limone e menta, ad abbinare con un prosetto di rosè. Per la pasta di oggi abbiamo spaghetti di graniano, bongole veraci, foglie di basilico fresco, limone non trattato, crema di zucchine e olio aromatizzato all'aglio. La prima cosa, aggiungiamo l'olio all'aglio e facciamo aprire le bombole. Appena le bombole si aprono, andiamo a riporre nella padella e facciamo soltanto un oro per oro che useremo per mantecare la pasta con la crema di zucchine. Andiamo a raggiungere la crema di zucchine, un po' di olio a svergere nell'olivo. Andiamo ad impiattare lo spaghetto. Spaghetto con bongole, zucchine, limone e menta. Trovo che un prosecco doc rosè mi destinato brutto porta leone sia l'ideale per un piatto basso di frutti di mare. Grazie. Grazie. Grazie.